Candelo si conferma realtà viva e vivace con un 2022 che inizia l'insegna dei colori e della cultura. Tra poco l'antico Egitto sbarcherà a Candelo. Nel borgo verranno ospitate la Cappella di Maia, gli affreschi della tomba di Tieneferu, i ritratti di faion e alcuni libri funerari. Si tratta di repliche di grandissima qualità, coppie ineccepibili, di grande valore educativo, con un tour ufficiale partito dal Museo Egizio di Torino. A sottolineare tutto questo è il sindaco di Candelo, Paolo Gelone. Non ci siamo però limitati ad ospitare questa mostra, ancora giunge. Abbiamo anche dato vita ad un intero calendario di appuntamenti, di conferenze, di laboratori per bambini. Un vero e proprio progetto condiviso con il territorio, che avrà come protagonista anche Schiapparelli, grande egittologo biellese. Poche volte dunque si vedono reti culturali così ampie, senza dimenticare che le opere in mostra per liberi di imparare, sono anche un simbolo concreto di partecipazione, in quanto realizzate dai detenuti delle sezioni scolastiche della Casa Circondariale, dell'Istituto Tecnico Plana e del Primo Liceo Artistico. E per testimoniare ancora l'impegno del carcere di Biella e del Liceo Artistico, una sezione sarà dedicata anche ai progetti biellesi. Tutta Candelo, anche fuori le mure del Borgo, parteciperà a questo viaggio nel tempo, perché alcuni negozi e vetrine faranno capolino opere a tema egizio. Già soltanto le tante locandine che ci saranno renderanno l'idea del lavoro svolto dietro le quinte di questo progetto e della grande varietà di iniziative che aspettano grandi e piccini. Candelo dunque dimostra che la cultura non è qualcosa di lontano, di noioso e che si possono veramente costruire iniziative interessanti, partecipate e aperte a tutti.